Operazione Last Minute, scacco ad una vasta rete di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle estorsioni. Nella mattinata di oggi sono state eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare, di cui 10 in carcere e 7 agli arresti domiciliari emesse dalla GIP del Tribunale di Castrovillari, nei comuni di Cassano Ionio, Alto Monte, Rossano, Roggiano Gravina e Monza. Ad eseguire le ordinanze i carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, unitamente a unità dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e della CIO del 14esimo Battaglione Calabria. Le indagini condotte dalla Compagnia di Castrovillari e coordinate dal Procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla e dal suo sostituto Antonino Iannotta nascono da un'attività info-investigativa tesa a far luce su una serie di furti di mezzi agricoli nella Sibaritide. Gli approfondimenti hanno da subito consentito di individuare un'officina meccanica nel territorio di Spezzano albanese, dove presumibilmente mezzi trafugati venivano trasportati e custoditi per essere successivamente ricollocati. In particolare i carabinieri hanno ricostruito un chiaro tentativo di estorsione, cosiddetto cavallo di ritorno, da parte di tre degli indagati in trane e alla cosca degli abruzzese Zingari operante a Castano Ionio e nei centri limitrofi, ai danni di un imprenditore di Spezzano albanese, titolare di una ditta di autotrasporti, al quale il 12 aprile 2017 erano stati rubati alcuni mezzi agricoli. Nel corso della trattativa è emersa in modo netto la capacità intimidatoria degli indagati, che forti della posizione ricoperta nei contesti criminali della Sibaritide, potevano contare sull'atteggiamento reticente da parte della vittima, che si limitava a formalizzare soltanto la denuncia di furto dei mezzi. L'operazione Last Minute ha inoltre permesso di accertare la presenza di tre diverse fiorenti piazze di spaccio ricadenti nel comune di Castano Ionio. Più in dettaglio, le intercettazioni hanno evidenziato l'operatività di tre ramificati gruppi di soggetti dediti al traffico di eroina, cocaina e hashish. Durante le operazioni di monitoraggio, i carabinieri hanno eseguito oltre 50 riscontri, cristallizzando le condotte delittuose degli indagati in ordine a 283 episodi di spaccio a complestivi 45 assuntori, che sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza. L'operazione odierna conferma in modo tangibile il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Castrovilleri, per riaffermare quotidianamente la presenza dello Stato e ripristinare la legalità. In un territorio quale quello della Sibaritide, dove vige una pervicace e diffusa subcultura criminale.